Ciao a tutti ragazzi, sono GastsBuster e benvenuti in un nuovo video. Oggi vi riassumerò le presunte, ripeto presunte caratteristiche delle novità della pre-release della 2.0 di Minecraft. Riassumo ciò da un video di un famoso youtuber inglese, in descrizione trovate il link del suo video di cui vi sto per parlare. Assù un altro link in descrizione ci sono tutte le novità ma io ve ne parlo perché ho potuto prendere delle immagini per farvele vedere. La prima immagine vi sembrerà normale, ma notate questo particolare. Le torce sono grigie, questa è la prima novità ossia che le torce dopo un po' si consumano. Come potete vedere. Questa seconda immagine introduce la presunta seconda immagine le mucche si potranno nutrire più volte. Quindi le mucche ingrasseranno. Ma cosa succede se le nutriamo troppo? Succede esattamente questo. Siccome vi aspettavate se nutrite troppo una mucca esplodeci da pelle e carne a quanto pare un po' di più di quando la uccidiamo. Anche se nutriamo una pecora troppo succede la stessa cosa. Però come vedete, nel caso della pecora, ci droppa lana. Inoltre come vedete dalla foto, se picchiamo una gallina, la gallina ci prenderà a beccate, e se siamo con un'armatura di ferro ci toglierà mezzo cuore. Inoltre, se si guarda troppo una gallina, si potrebbe arrabbiare. E se si picchia una gallina da sola, spawnano altre galline per aiutarla. Poi, come vedete dalle vetrate, ci saranno probabilmente le vetrate colorate. E si crafteranno in questo modo. Ci sarà anche, probabilmente, una specie di Wither rosa che ha i cuoricini intorno alla testa e non immagino pensare cosa sia. Comunque è l'opposto del Wither, non so come si spawni, comunque però sanna le persone vicine e fa crescere le cose più velocemente. Se si usa troppo un circuito Redstone, potrebbe spawnare un mostriciattolo della Redstone, che sembra un Silverfish rosso. Poi sono state aggiunte le Slab di TNT, chiamate Eto Slab, sempre attivabili, ma con meno danno. Il suo effetto è di esplodere e di spawnare su colui che ha attivato la TNT un'incudine. E infine, udite udite, verranno, probabilmente, implementati i cavalli. Solo che per adesso sono dei maiali colorati di marrone e si cavalcano come i maiali, con la sella. Beh ragazzi, per quest'episodio è tutto. Se ti sono piaciute le probabili informazioni di Minacraft 2.0 metti mi piace, e se non l'hai fatto, iscriviti. Ciao a tutti e alla prossima!